I principi e usi del commercio... Guardiamo con molta attenzione al finanziamento dell'attività con l'estero e questo è anche il motivo per cui insieme a Smilab abbiamo organizzato il forum di oggi che devo dire ha una buona partecipazione e un buon interesse. Con la globalizzazione e con la crisi la necessità di affacciarsi ai mercati internazionali è diventata una necessità per moltissime aziende. Fornire alle imprese gli strumenti per impostare e portare a termine con successo l'internazionalizzazione della propria azienda è stato l'obiettivo di un forum che si è tenuto questo mercoledì a Bergamo organizzato dalla Smilab in collaborazione con alcuni istituti di credito e con il patrocinio della Camera di Commercio. I temi toccati sono stati l'evoluzione del commercio con l'estero, la possibilità di sviluppo internazionale delle imprese ma anche e soprattutto gli strumenti bancari a supporto delle strategie commerciali. Le aziende però denunciano in un periodo come questo la difficoltà dei rapporti proprio con le banche. È chiaro che nei momenti di crisi le difficoltà di rapporto ci possono essere soprattutto perché noi vediamo dal nostro punto di vista che oggi c'è richiesta di credito solo nella gran parte dei casi in cui le aziende sono già in un punto molto brutto della loro attività. Non stiamo vedendo grandi richieste per nuovi investimenti e per sviluppo e questo fa sì che anche da parte nostra ci siano più difficoltà a concedere nuovi prestiti. Un caso per tutti, si parla di crisi dell'edilizia è sicuramente una crisi molto pesante che si protrae da diversi trimestri. Le banche non danno i mutui e non li danno in parte anche perché nessuno in questo momento li sta chiedendo. Il vostro invito è comunque quello alle aziende di rivolgersi con fiducia alle banche? Assolutamente, soprattutto le aziende che per fortuna loro e per capacità degli imprenditori hanno delle quote di fatturato legate all'attività con l'estero molto alte. Sono delle aziende che in questo momento possono venire in banca con molta tranquillità e chiedere finanziamenti. Durante il forum sono state illustrate anche le principali problematiche per chi si affaccia al mercato internazionale, ma anche la situazione dei vari mercati, l'andamento dell'export in Lombardia, le leggi e le opportunità in materia. In primo luogo le... ... Grazie a tutti.